Introduco Carla Conca, manager di Elson per la videoproiezione, nonché presidente SIEC, a cui cedo la parola per una prima introduzione sul risultato dell'evento. A questo punto anche io introduco Degli Orovelli, manager di Mitsubishi Electric, nonché vicepresidente di SIEC. Siamo qui oggi al Meriot Hotel di Milano, dove SIEC ha tenuto la sua prima convention, che vuole essere un momento d'incontro per gli operatori del mercato dell'audio-video professionale e dei controlli. Abbiamo organizzato una serie di interventi tenuti da esperti del mercato, di settore, ma non solo. Abbiamo anche degli interventi di UNI, di Accredia, e abbiamo avuto il piacere di avere un intervento anche del senatore, che fa parte della decima commissione del Senato, che si occupa delle professioni non regolamentate. Questo è un argomento su cui SIEC è molto sensibile, tanto che ha fatto richiesta ufficiale a Dughi di aprire un tavolo di lavoro che permetta di creare una prassi di riferimento proprio per qualificare il lavoro degli integratori di sistemi e degli operatori del mercato audio-video professionale. Direi che come riscontro è più che positivo, siamo ben oltre le solite percentuali di riscontro che la stessa Soglie l'ha confermata sulla città di Milano, quindi come prima uscita, direi che senza ombra di smentita, possiamo dire che è già stato veramente un buon successo per l'associazione SIEC. A questo punto ci auguriamo, e questo sarà solo che il primo, di tanti altri interventi che andremo a fare in futuro, ma soprattutto poi la nota positiva è la platea, non solo in termini numerici ma anche qualitativi. Direi che dal punto di vista dell'intervento del senatore innanzitutto non possiamo che ringraziarlo, nonostante le ovvie ragioni che l'hanno costretto purtroppo a non essere presente oggi, perché c'era un'importante votazione al Senato che doveva partecipare ovviamente, ma direi che il senatore a questo punto, oltre ad aver confermato la sua piena disponibilità a proseguire verso questa strada, ci ha anche già dato un suggerimento di costituire una commissione che sarà ben lieto di ricevere a Roma per entrare più nel dettaglio della discussione per questo riconoscimento delle professioni. Quindi direi che sicuramente c'è una discussione ormai in stato avanzato, anzi c'è stato proprio l'impegno e da parte dello stesso senatore che da parte dell'associazione a questo punto a proseguire a pieno ritmo e portare avanti questo importante dialogo per realizzare questa posizione. E poi continueremo comunque nella collaborazione che abbiamo con Infocom, abbiamo avuto il primo intervento proprio di Godwin De Miccoli, rappresentante di Infocom Europe, che ci ha fornito degli interessanti dati di mercato e ha confermato la collaborazione tra le associazioni, cui primo esempio tangibile è il fatto che abbiamo appena terminato la traduzione in italiano del corso AV Technology Specialist, adesso organizzeremo e daremo l'informazione al nostro pubblico il più prima possibile su quelle che saranno le prime sessioni di questi corsi disponibili per gli operatori. Concordo pienamente con quello che ha appena confermato Carla Conca, sicuramente il buon De Miccoli ha mostrato nel dettaglio quello che è la fotografia worldwide dal punto di vista del riconoscimento delle professioni. Sicuramente il mercato nordamericano come altri mercati europei sono in una fase molto più avanzata, noi eravamo consci di questa situazione, di questa necessità del mercato e per questa ragione, fine 2009 ci siamo ritrovati, attorno a un talo abbiamo discusso di questa cosa, questa è stata l'idea iniziale di SIEC poi che stiamo portando avanti, sicuramente c'è un gap notevole, però diciamo che in questa giornata SIEC non può che confermare non solo lo sviluppo della tecnologia, ma andare a sistemare tutta la volontà, andare a sistemare quelle che sono le professioni, quindi si adopererà anche da parte di SIEC, quindi dell'industria, cercare di colmare questo gap di riconoscimento delle professioni che abbiamo rispetto a altri mercati, che è folle.